Nel 2016 l'offerta di posti letto per gli ospedali di Polla e Sapri classificati come pronto soccorso erano 192 più 20 per la lungodegenza per il Luigi Curto e 98 più 16 per la lungodegenza per il dell'Immacolata. La nuova programmazione per i presidi classificati DEA di primo livello fa registrare un lievo aumento di posti letto per Sapri che da 98 passa a 100, ma una decisa flessione per l'ospedale di Polla che pur recuperando 5 posti letto per la lungodegenza e la riabilitazione perde 46 posti per gli acuti. Partendo da quest'analisi il gruppo cittadini attivi della provincia di Salerno parla di alcune contraddizioni che emergerebbero dal nuovo piano della regione chiedendo l'intervento del ministro della salute Giulia Grillo. Innanzitutto per l'ospedale di Polla la perdita dei posti letto e la nuova classificazione va in contrasto con la normativa vigente che prevede per idea di primo livello un aumento delle discipline e quindi un aumento dei posti letto visti i numeri fissati dalla regione che parla di una struttura complessa per ogni 22 posti letto. Una riflessione anche sui punti nascita che essendo in forse una eventuale soppressione comporterebbe una ulteriore perdita di posti letto visto che entrambi gli ospedali si vedono riconosciuti per ostetrici e ginecologia 10 posti letto con Polla che ne ha persi 8 e Sapri che ne ha già persi 5. Senza il punto nascita in particolare Sapri dai 100 posti letto passerebbe a 90 che con la normativa vigente prevede la perdita di idea di primo livello. Il gruppo cittadini attivi pone l'attenzione anche sull'assenza di interventi in materia di inizia sanitaria richiesti per i presidi classificati idea di primo livello. Viene inoltre ricordata la necessità di garantire equità negli accessi e qualità nel servizio per i quali è necessario dotare i vari presidi di un numero adeguato di posti letto anche al fine di fornire uno strumento utile al contrasto alla mobilità regionale. Un principio questo che, secondo quanto scrivono dal gruppo, sembrerebbe perdersi di fronte a scelte dettate da mere valutazioni di opportunità politica a danno della salute dei cittadini del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. Ed è proprio su quest'ultimo punto che il gruppo chiede l'intervento del Ministro della Salute al fine di valutare con attenzione il piano per capire se la dotazione di posti letto prevista possa garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme nella provincia di Salerno e nel contempo anche un'erogazione degli stessi servizi efficiente, appropriata, equa, sicura e di qualità.